Fanno città dei bambini? Si mostra chiaramente per quello che è quando rende protagonista i bambini. La nuova iniziativa riguarda la pubblicazione di una guida turistica tutta per loro. Presentata dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli, la guida è ricca di illustrazioni disegnate da Rebecca Lisotta e Alessandra Roberti, edita da Media Books di Dario Mezzolani, propone testi di Martina Stefanini e Ilaria Mattioni. A introdurre i più piccoli nelle meraviglie della città, quattro personaggi, Vitruvio per la città romana, Pandolfo per quella medievale, Scorfano per la Fano Marinara e il Vuolon per il Carnevale. Tra le pagine, giochi, indovinelli ed esercizi di abilità. Giocando si impara. Tutte le famiglie che arrivano nella nostra città vengono mandate nei luoghi più belli, come possono essere anche il Museo del Palì, come può essere Casa Archilei, come può essere il nostro centro storico, come possono essere i passeggi, luoghi simbolo dove le famiglie possono stare bene e conoscere la nostra città, tra paesaggio e storia. Il Consiglio di Bambini ci chiedeva una guida per giocare anche con la storia, e oggi grazie a Mediamix abbiamo prodotto questa fantastica guida che porta a conoscere la nostra città con quattro personaggi. Uno è Vitruvio, che fa conoscere la nostra storia romana, uno Pandolfo, che fa conoscere la nostra storia malatestiana, uno è Scorfano, che ti parla del mare e della nostra tradizione, uno è Fortuna, che ti racconta i vari luoghi che le famiglie possono vivere nella città di Fano, e uno ovviamente è il Voulon, che ti parla di tutti i nostri eventi della città, ma attenzione, eventi dedicati ai bambini e alle bambine.